Bella Radio, estendi la tua musica. Ascoltatori al giorno, che diventano oltre 43 milioni nei sette giorni. La radio rende più precisi, perché ha un'efficiente targetability, ascolti in crescita su target pregiati e una tradizionale attrattiva per i giovanissimi e i giovani ormai consolidata. E gli ascoltatori della radio hanno una scolarizzazione superiore alla media. Con la radio è semplice scegliere il pubblico da ingaggiare, anche geograficamente. Chi ascolta la radio è la parte più dinamica della popolazione, molto attiva anche online. La radio rende più seguiti, perché l'ascolto continua anche durante la pubblicità. Campagne creative, intriganti o con un vantaggio diretto per chi ascolta, sono amatissime e hanno un gran numero di interazioni sui social. La radio rende più famosi, perché quasi il 67% degli italiani che hanno più di 14 anni ascolta per oltre 200 minuti circa due radio ogni giorno. Un pubblico molto social, attento, appassionato, fedele, sempre connesso. La radio rende più desiderati, perché fin dalla sua nascita genera call to action efficaci. Oggi la radio spinge alle ricerche sul web. Il pubblico è abituato a interagire da anni su consiglio della radio. La radio stimola gli acquisti online e la scelta di prodotti e servizi. Oltre il 53% degli ascoltatori ha scelto un'assicurazione, una banca o un'auto proprio grazie agli spot radiofonici. E la percentuale raggiunge il 70% per viaggi, telecomunicazioni e food. La radio rende più vicini, perché è passione, emozione e amicizia. Gli speaker radiofonici sono i primi influencer. I loro programmi sono un contesto perfetto per sponsorizzazioni, promozioni e per l'efficacissima eccitazione in diretta. La radio rende più convincenti, perché la verità sta nel mezzo. Il mezzo radiofonico ha una credibilità unica. Gli ascoltatori si fidano della loro radio preferita. Grazie al proliferare di diversi device d'ascolto, le radio sono la prima scelta di intrattenimento audio. La radio rende più creativi, perché in radio tutto è possibile grazie al potere dell'immaginazione. Con gli effetti sonori è semplice ricreare ambientazioni e situazioni da colossal ed è conveniente produrre più soggetti per approfondire i diversi valori di un brand o di un prodotto. La radio rende più efficienti e veloci, perché in pochi giorni sei in onda. E la radio conviene, fino a 13 volte più di altri media. La radio rende. La radio vende. Contattaci subito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.